io confesso oggi ho rubato e no non ne avevo bisogno e forse è stato il piacere della sfida e si è come è come quando sei adolescente no che vuoi provare il piacere di superare il limite quella scarica di adrenalina e si deve essere stato proprio questo io ho cercato un'emozione forte altrimenti non mi spiego perché mai avrei dovuto rubare un rossetto poi confesso che un giorno mi sono incazzata con il mondo va bene e non lo so l'ottima esatta in cui è successo neanche il minuto spaccato ma di vero non so neanche l'anno e il giorno e non ha importanza so solo che è successo ma che sei incazzata e perché mai amore mio no è che sei un po' violenta quando parli ma non dire stronzate che io ti amo com'è possibile suona suona come ti odio ha detto lui ti odio perché io vi sembro violenta eh no dico io vi sembro violenta io sono tranquillissima chiaro sono tranquilla e va tutto bene confesso non ci avevo mai pensato non l'avevo mai considerato una cosa infattibile non che non mi reputassi degna no è che non rientrava nei miei piani sul futuro ecco io pensavo più a sistemarmi con il lavoro una volta per tutte pensavo al trasloco definitivo quello che ti porta nella tua casa quella che sarà per sempre pensavo all'amore al mio compagno no che con tutto che gli anni passavano era ancora premuroso e sexy insomma io pensavo più sul generale che sul particolare o forse no pensavo più sul particolare che sul generale boh decidete voi una gravidanza è un pensiero più deduttivo o induttivo